Ciao a tutti, eccoci al primo dei nostri appuntamenti che abbiamo chiamato, come avete visto nel video precedente, i Santi dell'Abbazia. Ripartiamo allora in questo tempo pasquale proprio dai Santi. Uomini e donne, i Santi che come noi hanno scommesso tutta la loro vita e la loro energia per Cristo. Allora non perdiamo tempo, iniziamo con il primo degli altari minori della nostra Chiesa. Lo vediamo qui accanto a me, è il primo altare di destra entrando dal portone della nostra Chiesa. Questo primo altare è dedicato a Sant'Antonio di Padua. Come potete vedere dai colori, dalle forme, è un altare ottocentesco come la stessa pala. La pala è il quadro che raffigura il Santo. Questa pala è di autore anonimo e rappresenta il Santo, come potete vedere, che è in adorazione di Gesù Bambino che è avvolto da un fascio di angeli e Gesù porta la luce a Sant'Antonio in quel momento. Tante volte noi troviamo Sant'Antonio mentre porta in braccio il bambino e questo perché? Perché ricorda una sua visione particolare che lui ha avuto durante la sua vita. E non solo, lo vediamo vestito degli abiti francescani perché sappiamo che Sant'Antonio diverrà poi francescano. Conobbe San Francesco e non seppe resistere a questa vocazione francescana. Di Sant'Antonio sappiamo tantissime cose. La sua vita è ricchissima. Dovremmo fare video di centinaia di ore per raccontare la sua vita. Dicevo di lui sappiamo che è nato nel 1195 a Lisbona in Portogallo. Entrò prima a far parte dei canonici regolari agostiniani e compì gli studi a Coimbra. Un grande studioso, Sant'Antonio, appassionato dello studio, appassionato della parola di Dio. Dopo il martirio di cinque missionari francescani in Marocco, perché dobbiamo sapere che Sant'Antonio girò tantissimo il mondo come missionario. Dicevo di fronte a questa uccisione di cinque martiri rimase talmente impressionato che decise di passare all'ordine francescano, come vi ho detto prima. E si fece frate nel 1220. Cominciò addirittura a predicare in Africa, ma per ragioni di salute dovete rientrare in Italia. Poi fu inviato a Bologna come lettore in teologia. Insegnò a Montpellier, Francia, a Tolosa. In Francia dovete combattere addirittura contro un'eresia, l'eresia degli albigesi. Ma di questi ne parleremo più avanti incontrando un altro santo della nostra chiesa. Fu superiore addirittura dell'ordine dei frati di tutta la Lombardia e di tutta l'Emilia, dal 1227 al 1230. Poi decise di fermarsi a Padova. Ecco perché lo conosciamo come Sant'Antonio di Padova. Perché decise di fermarsi a Padova? Perché volle dedicarsi completamente alla predicazione. Lui desiderava tantissimo di predicare, parlare di Gesù. E qui a Padova morì improvvisamente. Pensate, giovanissimo. Aveva solo 36 anni. La devozione rivolta a Sant'Antonio si diffuse tantissimo, soprattutto grazie ai sermoni che San Bernardino teneva su di lui. Pensate un po'. Fu talmente bravo a predicare. Fu un ottimo predicatore, al punto tale che quando morì gli tagliarono la lingua. E questa lingua la possiamo ancora trovare nella Basilica del Santo a Padova, dietro l'altare maggiore, là in una teca. E possiamo vederla. Possiamo contemplarla come oggetto particolare. Sant'Antonio insieme a San Rocco e a Sant'Antonio Abate è uno dei santi più popolari e invocati al mondo. Si festeggia il 13 di giugno e pensate di chi è protettore. È protettore degli orfani, dei prigionieri, dei naufraghi, delle donne sterili, e dei bambini ammalati, dei vetrai. E tutti questi patrocini riguardano un fatto che è avvenuto riguardo la sua vita. Ma Sant'Antonio per via dei suoi innumerevoli prodigi operati anche in vita viene chiamato il Santo dei Miracoli. Volete qualche esempio di miracoli che ha fatto in vita, così sorridete anche un po'. Aveva operato miracoli come profezie, esorcismi, guarigioni. Compreso l'avergli attaccato una gamba, fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno. A una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui dei cibi avvelenati, predicò i pesci. Costrinse una mula a diginocchiarsi davanti all'ospia, poiché il proprietario della mula, non credeva che Cristo fosse realmente presente nell'ostia consacrata. Fu visto in più luoghi contemporaneamente e da qualcuno proprio anche con Gesù bambino in braccio. Ma il miracolo più bello è la parola di Dio che prima ha amato, ha contemplato e che poi ovunque lui è passato ha lasciato nascere nei cuori di ciascuno. La parola, la predicazione. Questa è, potremmo dire, è il prodigio più bello che Sant'Antonio ha compiuto. Un vero campione, Sant'Antonio. Il santo da Padova che ha compiuto meraviglie. In vita, e ne compie ancora tutt'oggi, insegna anche a noi, uniti a Cristo, a fare della vita una meraviglia continua. Allora da oggi, quando entriamo nella nostra chiesa parrocchiale, entriamo dal portone, volgiamo lo sguardo a destra e guardiamo questo grande santo, perché ci aiuti, interceda per noi e, come dicevo prima, faccia sempre della nostra vita in unione al Signore una grande meraviglia. Ciao!